Nelle prime ore di questo pomeriggio un mezzo agricolo ha preso fuoco nelle campagne in località Cerbara nella vallata del Metauro. Le fiamme si sono sviluppate da un rimorchio trainato da un grosso trattore che trasportava rotoballe di fieno, probabilmente a causa del surriscaldamento dei freni. Il materiale altamente infiammabile è stato rapidamente avvolto dalle fiamme che si sono subito sviluppate, alte e violente, tanto che il fumo, nero e denso, è stato visibile anche a diversi chilometri di distanza. Anche il pesante trattore che trainava il rimorchio è stato rapidamente avvolto dalle fiamme che lo hanno completamente distrutto. Fortunatamente il suo conduttore, accortosi di quanto stava accadendo dietro il di lui, è uscito in tempo dalla cabina ed ha dato subito l'allarme. Sul posto sono arrivate tre squadre, dei vigili del fuoco da Fano e Pesaro, che hanno rapidamente circoscritto e contenuto il rogo, spostando anche con l'aiuto di un mezzo idoneo le rotoballe per poterle così aggredire in modo più facile e incisivo. Sul posto anche un'unità speciale per gli incendi boschivi. Le squadre hanno impegnato diverse ore per aver ragione delle fiamme e mettere in sicurezza l'intera area. Non si registrano al momento però altri danni a cose o persone. Ma la giornata dei vigili del fuoco era iniziata già da questa mattina verso le 8.30 quando sono stati chiamati per intervenire lungo la strada statale 16 nei pressi dell'intersezione per Roncosambaccio per le sterpaglie che stavano andando a fuoco lungo il crinale della collina. Anche in questo caso due squadre sono arrivate sul posto dell'incendio ed un autobot per domare le fiamme che sono state messe sotto controllo in poco più di un'ora. Sul posto dell'incendio è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri forestali.